sono ascoltati e appunto prese di petto e di peso le loro considerazioni, ma perché chi vive la situazione di lavoro tutti i giorni saprà certamente, meglio del Governo, meglio di questo Parlamento, come magari fare per ovviare a determinate situazioni. Voi non avrete preso in considerazione nessun suggerimento, non è da dire ne avete ascoltato qualcuno e poi avete preso, avete scelto. No, voi proprio non avete scelto perché avete mantenuto l'impianto originario senza mai ascoltare il parere di nessuno, non solo con riguardo a questo decreto, come ho detto, qui non è in discussione l'articolo 5 punto e basta, qui è in discussione il metodo adottato dal Governo Renzi dal 2014 fino ad oggi, è questa la gravità dell'impianto che avete costruito, continuate con i problemi invece di risolverli, noi non siamo complici di queste porcate. Grazie onorevole Sarti, onorevole Colletti a titolo personale. Come detto dalla collega Sarti, con questo emendamento vogliamo estendere la proroga a tutti i magistrati, ma questo per un motivo molto semplice. Se attualmente abbiamo una vacanza di ben mille posizioni nel rintero ruolo della magistratura, e non parlerò solo di Cassazione e Consiglio di Stato, si parla di magistrati in corti d'appello, tribunali. Allora, che senso ha far andare intanto in pensione delle persone che ovviamente non saranno sostituite? E quindi che senso ha danneggiare in questo caso ancora di più i cittadini che fanno ricorso e che aspettano anni per vedere soddisfatte le proprie esigenze? Basterebbe attendere, e purtroppo si necessita di qualche anno affinché tutti i concorsi possano arrivare alla fine, e far andare in pensione a 70 anni fra due anni, piano piano, senza creare scoperture nei ruoli della magistratura. Basterebbe fare questo, Sottosegretario, e non ci sarebbe nessun problema. Grazie. Allora, metto in votazione l'emendamento 5.9 Colletti, parere contrario Commissione-Governo, favorevole della relatrice di minoranze. È aperta la votazione. Intanto che i colleghi votano, avverto che gli emendamenti Coppola 7.200, 7.202, 7.203, 7.204, 7.205, 7.206 e Boccadutri 7.208 sono stati ritirati dai presentatori.